Bentornati, ben ritrovati o benvenuti a Radio Puginon Air. Parliamo di un programma che ha sempre fatto discutere, ha sempre fatto parlare di sé. Un mix perfetto di provocazioni, opinioni forti e personalità che non hanno paura di esporsi. Belve di Francesca Fagnani, la conduttrice che è diventata simbolo di interviste incalzanti e senza filtri, sta preparando una nuova stagione che promette di non risparmiare nulla a nessuno. Il ritorno in onda è imminente tra pochissime ore. Oggi, martedì 19 novembre 2024, Francesca Fagnani si prepara a portare in studio ospiti che, come sempre, dovranno essere pronti a mettere sul piatto le proprie idee e a non aver paura di rispondere a domande scomode. La Fagnani, durante un'intervista con i conduttori di Un giorno da pecora su Rai Radio 1, ha chiarito la sua visione riguardo la trasmissione, confermando quella che è la sua filosofia da sempre. Andare in onda per non dire nulla è una cosa che di certo non mi conquista, ha detto, e questa, in poche parole, è la chiave di tutto. Dunque, molto da aspettarsi, come sempre, dalle prossime interviste di Francesca Fagnani, che noi seguiremo e vi racconteremo qui a Radio Pugironer, per cui vi invito ad iscrivervi a questo podcast, perché può essere un motivo, un buon motivo, senz'altro, per farlo. La conduttrice si è espressa in modo chiaro, non accetta che un'intervista sia piattezza. Non è mai stata un'adepta delle risposte evasive, tantomeno ha intenzione di cedere alla moda del politicamente corretto, come si dice. E la Fagnani è ferma nel suo approccio. Le interviste devono essere coinvolgenti per il pubblico, devono suscitare reazioni e non lasciare spazio all'indifferenza. In effetti, la sua decisione di non invitare Maria Rosaria Boccia, la cui figura è stata al centro dei riflettori per la presunta relazione con l'ex ministro della cultura, e Gennaro Sangiuliano, di cui abbiamo parlato a lungo di entrambe in tanti episodi in questi mesi. Questo ha destato molto interesse, perché Francesca Fagnani ha spiegato che inizialmente aveva pensato di invitarla, ma che la situazione è cambiata rapidamente. L'ho cercata le prime ore del caso, ha rivelato la Fagnani, ma ben presto si è resa conto che alla luce degli sviluppi, di questo caso non c'era più interesse. Se per ogni cosa la risposta deve essere di questo non posso parlare, allora è inutile invitarla. Infatti, in effetti, vi abbiamo raccontato nell'ultima intervista che abbiamo commentato, quella in cui la Boccia era ospite sulla 7 a Piazza Purita, in cui l'intervista davvero era piena di non posso parlare, non posso dire, e dunque è sicuramente un'intervista poco interessante. Per la Fagnani, insomma, l'intervista deve essere un'occasione di scambio reale, e se il personaggio non è disposto a rivelare nulla, allora non è la persona giusta per il programma. La conduttrice ha ribadito che la sua scelta si basa sulla necessità di avere ospiti che possano arricchire il dibattito, non limitandosi a fornire risposte vaghe o rinviando continuamente a tempi migliori. In un'epoca dove le interviste sembrano a volte diventare un esercizio di vuote parole, Francesca Fagnani è decisa a mantenere il suo format alto, in linea con il suo impegno giornalistico, e il suo desiderio di portare in televisioni conversazioni che contano. In effetti, quando ha chiarito la sua posizione, non si è limitata a raccontare la sua decisione di non invitare Maria Rosaria Boccia, ma ha anche aggiunto un dettaglio importante, dicendo «Ho ricevuto un contatto da un avvocato della Boccia, che mi ha cercato per cercare di riavviare la conversazione». Ma io ho risposto «No, non sono più interessata». La posizione di Fagnani è netta, senza possibilità di fraintendimenti, vuole interlocutori pronti a rispondere con chiarezza e sostanza. D'altra parte, la conduttrice ha mostrato un'altra attitudine decisamente più aperta riguardo un altro nome che potrebbe essere protagonista in questa nuova edizione di Belve, ossia Andrea Giambruno, il giornalista noto per il suo approccio diretto, ha mostrato interesse per il programma e la Fagnani ha manifestato il suo ottimismo sulla possibilità di vederlo in studio, seppur con una formalità ancora da risolvere con Mediaset. «Secondo me arriverà», dice la Fagnani, «penso e spero di sì». Lui ha detto di sì, contento e convinto, e ha aggiunto «ci divertiremo molto». Questo commento chiarisce come l'approccio della conduttrice sia altrettanto deciso nella scelta degli ospiti, sempre alla ricerca di personalità, che possano stimolare il dibattito e provocare reazioni nel pubblico. Non c'è spazio per chi si limita a lanciarsi in discorsi vuoti o a evitare di rispondere alle domande, dunque. Questa voglia di portare studio volti e voci che possano suscitare discussioni si riflette anche nei suoi desideri di ospitare altri personaggi come Gennaro Sangiuliano, l'ex ministro della Cultura. La conduttrice è entusiasta all'idea di affrontare argomenti complessi e rilevanti, alimentando discussioni che possano risultare interessanti anche per i telespettatori più critici. La Fagnani dunque ha anticipato che la selezione degli ospiti non si limiterà solo alla politica, ma che ci sarà spazio anche per personaggi legati alla cultura e allo spettacolo, con l'obiettivo di arricchire ulteriormente il dibattito. Uno dei nomi che circola, e vedremo se sarà così, è il nome di Chiara Ferragni, che potrebbe essere una delle ospiti di questa edizione, di cui abbiamo parlato in un episodio dedicato proprio a questo. Questo approccio trasversale della Fagnani potrebbe trasformare Belve in un programma in grado di affrontare con disinvoltura temi di grande attualità, senza perdere mai di vista la qualità della discussione. Con questa nuova stagione di Belve vedremo cosa accadrà in questa prima puntata di questa sera. La Francesca Fagnani ha confermato ancora una volta la sua visione decisa, professionale e critica che mette al centro il valore autentico delle conversazioni. Le sue dichiarazioni sulla boccia e Gian Bruno evidenziano quanto la conduttrice si impegni per garantire un dibattito che non si limiti a essere solo rumoroso, ma che fornisca un'analisi lucida e approfondita dei temi di attualità. In definitiva, Belve resta uno dei programmi più attesi e discussi della televisione italiana grazie alla determinazione di Francesca Fagnani di non scendere a compromessi sulla qualità del suo format. Allora vedremo, ascolteremo cosa stasera diranno i primi ospiti e vedremo se ci sarà qualche sorpresa a proposito di ospiti. Vi lascio e vi do appuntamento al prossimo episodio di Radio Puginone. Grazie per averci ascoltato.